L'artista esistenzialista, una reminescenza per certi versi di un tramonto, siamo appunto nella zona tra, basta nel mercatello, nulla, possiamo notare per certi versi quello che è l'arancio, quindi giallo spaglierino, qui siamo in 5X, E' nulla, abbastanza bello, molto particolare, effettivamente relaxing day, è davvero rilassante, Spiagge non c'è tanta gente come oggi pomeriggio, oggi siamo a fine serata, 8.20, però poi per certi versi ripeto, abbastanza abbastanza rilassante come cosa. Eccolo qua, arancio, giallo spaglierino, un po' di alagosto, l'artista esistenzialista, buonasera da tutti.